ehi voi lassu dico a voi nuvoloni cosa dici? non sento volete smetterla di piovere? non sento aspetta sali non potreste andare a piovere da qualche altra parte? mi dispiace ma non possiamo muoverci da qui, abbiamo un importante riunione allora me ne andro in un posto asciutto, anzi asciuttissimo ciao aliante ciao bella mi porti nel deserto? perchè? perchè la non piove ma il cielo è nuvoloso non ti preoccupare, sopra le nuvole c'è il sole il prato è pieno di pozzanghere, come faccio a prendere l'aria in corsa? ci penso io sono gli stivali di armando e con questi andrà benissimo posso venire con voi? certo stiamo arrivando benvenuti benvenuta straniera vuoi tu la guida? con molto piacere chi sei? il cammello camillo salta in grappa devo fare provvista d'acqua perchè il deserto è asutissimo bene, andiamo sai che la tua gobba è proprio comoda è fatta a posto però che caldo che fa mettete questo in testo vuoi fare una corsa con me? con piacere dai via uno, due, tre via corri forte tu mi hai insegnato mio papà ma adesso non vuoi mai correre con me perchè? dice che è sempre occupatissimo andiamo a vedere signor struzzo eh, vado a fare sono occupato vedi aspetta un momento buh che paura mi hai fatto? mi insegna a correre fortissimo va bene parti alza le zampe davanti forza allunga le gambe sei proprio un bravo maestro di corse corri col tuo bambino adesso devo tornare a casa è meglio se ti faccio un po' d'ombra grazie l'aereo non c'è più e io come faccio? ti porto io sono stata nel deserto perchè? perchè l'hai asciutto e qui era tutto bagnato cercavo i miei stivali sono nel deserto ma torneranno presto da soli? no con l'aliante speriamo che facciano presto buonanotte adesso